Ciao a tutti! Preciso che non sono un tecnico informatico, ma come tanti di voi mi sono imbattuto in questo problema. Come rendere veloce il nostro dispositivo Android, cellulare o tablet? Nulla cambia. Beh, in tre sole mosse. Semplicissime tra l'altro. Vi farò vedere come fare. Tenete però presente che queste operazioni dovranno essere effettuate nuovamente nel caso in cui si faccia un aggiornamento software del dispositivo. Mossa numero uno. Entriamo in impostazioni. Quindi cerchiamo la famosa rotella, che non è poi tra l'altro una rotella ma un ingranaggio, e entriamo dentro. Ok, in fondo a questa pagina solitamente, eccolo qua, c'è gestione applicazioni. Ed entriamo. Qui possiamo vedere tutti i programmi che sono le app contenute nel nostro dispositivo. Alcune, però, non le usiamo mai, non ci interessano. Quindi possiamo disattivarle, semplicemente cliccando sopra e scegliendo disattiva. Per esempio, il dizionario qua è già disattivato. Facciamo che, adesso lo riattiviamo, attiva. Ecco, allora, io adesso ho il dizionario attivo. Quindi lui comunque in background c'è e potrebbe andare su internet, non ce ne accorgiamo. Quindi questo ci consuma dati. Potrebbe andare a comunque consumarci ulteriormente la batteria. Potrebbe andare comunque a abbassarci la memoria RAM o la memoria di sistema. Insomma, potrebbe portarci degli scompensi. Quindi, che cosa facciamo? Dizionario, non ci serve, disattiva, ok, fine. Come potete notare, qua, disattivato Google Play ed Icola. Io non so quanti di voi useranno questa app, Google Play Film, lo stesso. Io non lo so quanti di voi la usano. Io non la uso e quindi, ovviamente, l'ho disattivata. Usciamo. Seconda mossa. Stesso procedimento di prima. Quindi, andiamo a cercare l'ingranaggio. Entriamo dentro, andiamo in fondo. Gestione applicazioni. Ecco. Adesso, vedete i tre puntini qui a destra, in alto? Bene. Ci mettiamo il dito e si apre un menu. Il primo sottomenu, quindi mostra applicazioni di sistema, è quello che dobbiamo aprire. Attenzione perché qui stiamo in un ambiente più delicato di quello di prima, nel senso che qui abbiamo anche applicazioni di sistema, quindi sbagliare nel disattivare qualcosa qui potrebbe comportare poi dei problemi nella riattivazione. Insomma, ci creerebbe un certo caos all'interno del software del nostro dispositivo. Quindi bisogna stare attenti a cosa andiamo a disinstallare o a disattivare. Per esempio, dove non so, ovviamente non metto mano, quindi lascio com'è. Però ci sono delle cose che sono molto evidenti e che noi bloccandole andiamo sempre a risparmiare. Memoria, batteria e in alcuni casi anche dati. Per esempio, qui c'è scritto bolle. Bolle è un effetto del salvaschermo, quindi a me non interessa, entro dentro, in questo caso l'ho attivato, no? Ecco qui, è attivo perché non c'è scritto nulla. Altrimenti entro dentro e faccio disattiva esattamente come prima e lo blocco. Quindi, batteria risparmiata, RAM risparmiata e dati risparmiati. E così posso fare con tutte quelle app che io riconosco bene, devo esserne sicuro ovviamente, che andandole a bloccare non mi creino poi problemi. Ok? Terza mossa. Allora, il percorso è sempre lo stesso, quindi vado a cercare il mio ingranaggio, eccolo qui. Vado in fondo a questo menu, perché normalmente qui si trova gestione applicazioni. Vado di nuovo sui tre puntini in alto a destra e questa volta però vado a mettere il dito su modifica impostazioni di sistema, eccolo qui. Allora, qua dice, selezionate quali applicazioni sono in grado di modificare le impostazioni di sistema, come l'attivazione o la disattivazione del Bluetooth. Ecco, applicazioni che sono in grado di modificare le impostazioni di sistema, che sinceramente, personalmente, vorrei che questo accadesse il meno possibile. Quindi, cosa faccio? Acrobat Reader, ecco, questo è proprio di sistema, che non può essere né attivato né disattivato. Va bene. Archivio lo posso attivare o disattivare. Ora, ripeto, che l'archivio possa essere colui che decide se attivare o disattivare il Bluetooth, per me è, almeno da quello che spiega qui, per me è assolutamente privo di significato, non voglio che intervenga in nessun modo, e quindi ho spento l'archivio. Idem per la calcolatrice, il calendario e via dicendo. Anche questo, alla fine, va a incidere sulle prestazioni, insomma, del nostro dispositivo, creando, a volte, anche grossi rallentamenti nel fare delle operazioni o grandi consumi di batteria. Quindi, secondo me, ecco, fare queste tre mosse può essere utile e, devo dire, forse anche risolutivo, almeno nel mio caso, devo dire che ho risolto moltissimi problemi stando attento a disattivare fondamentalmente tutto ciò che credo non serva. Spero che questo piccolo video possa aiutarvi facilmente, insomma, nel trovare più prestazioni per il vostro dispositivo. Io posso solo dire che è una cosa che faccio da moltissimo tempo e funziona. Funziona perché ho sempre il mio cellulare o tablet che si muove velocemente, che fa quello che gli chiedo velocemente, senza grandi problemi, senza grandi crash, anzi, devo dire, mai avuto crash. Quindi, insomma, credo che sia siano delle operazioni semplici, come ho già detto all'inizio, ma efficaci. Ciao e grazie a tutti per la visione.